Project Spark arriva su Xbox One tra i60 e Windows dopo due anni di gestazione ed una prolungata fase di beta testing, offrendo agli utenti Microsoft un manuale di game design unico nel suo genere e attualmente senza uguali sul mercato. Nemmeno il caso analogo e celebre di LittleBigPlanet può infatti essere usato come paragone adeguato, dove Media Molecule fornisce infatti ai giocatori un set pressoché infinito di elementi platform con i quali spaziare all'interno di qualsiasi altro genere grazie alla fantasia e all'impegno dei giocatori, Team Dakota allarga a dismisura orizzonti e librerie a disposizione di tutti i game designer in erba, fornendo da subito gli strumenti per inserire le proprie creazioni in diversi generi. Dal comportamento di personaggi e nemici alla conformazione del territorio passando per la superficie delle mappe agli oggetti contenuti in esse, tutto è modificabile tramite la semplice pressione di un tasto o perdendosi all'interno dei numerosissimi menu. La navigazione delle aree di gioco, o meglio di creazione, avviene tramite un'interfaccia utente che riprende tutte le tradizionali proprietà dei programmi di elaborazione grafica e affini. Nonostante i tastieri e i mouse rimangano quindi le migliori periferiche per il suo sfruttamento, anche tramite pad la produzione non perde di immediatezza e velocità. Per dare vita ai propri paesaggi, ad esempio, sarà sufficiente trascinare la texture scelta tramite l'apposito cursore al centro dello schermo, mentre l'intelligenza artificiale viene gestita tramite le più basilari regole di causa ed effetto. Per agevolare il lavoro degli utenti, Project Spark offre una selezione di design già realizzati, dai quali è possibile prendere spunto o copiare e incollare intere sezioni, modificandole poi all'interno del proprio progetto. Il rovescio della medaglia di un'interfaccia utente intuitiva e accessibile sta tutto nel tempo che dovrete investire in fase di design. L'abbondanza di opzioni e preferenze offre una complessità nella quale è sempre più facile e necessario sprofondare, ma che finirà col far perdere un numero complessivamente spropositato di ore nella creazione di una semplice sequenza o porzione di progetto, lasciando solamente agli appassionati di programmazione e game design la possibilità di costruire delle vere e proprie esperienze di gioco di un certo spessore. Entrando sempre più in profondità nei vari design, inoltre, le opzioni iniziali non saranno più sufficienti a soddisfare le idee degli utenti, che dovranno a quel punto ricorrere all'acquisto di DLC tramite soldi reali o crediti virtuali, guadagnabili tramite un sistema di obiettivi che mina parzialmente la libertà espressiva del giocatore. In controtendenza con la completa libertà creativa che Project Spark dovrebbe garantire, troviamo anche un sistema di punti esperienza che via via sbloccherà l'utilizzo degli elementi di design più avanzati. A far storcere ancora di più il naso in questo frangente è il fatto che tramite la sottoscrizione di un abbonamento mensile il numero di XP e crediti guadagnati dagli utenti verrà opportunamente raddoppiato, mentre DLC acquistabili solamente tramite moneta reale diverranno disponibili anche tramite crediti in-game. Anche dal punto di vista tecnico, l'offerta del titolo Team Dakota vive purtroppo di alti e bassi, con elementi grafici in stile cartoon assolutamente convincenti per ricchezza di colori, qualità delle texture ed animazioni che lasciano invece spazio ad ingredienti sonori generalmente meno riusciti, ad eccezione di qualche effetto in particolare. Tra i migliori game creator attualmente disponibili sul mercato, Project Spark mette nelle mani di aspiranti game designer una quantità spropositata di varianti ed opzioni tramite le quali spaziare efficacemente all'interno di qualsiasi genere ludico. Una disponibilità di risorse non immediatamente capace di soddisfare tutte le esigenze ed una spiccata importanza delle componenti sbloccabili tramite l'utilizzo di soldi reali fanno però emergere una serie di imperfezioni amplificate dalla struttura stessa del titolo Team Dakota. Solamente chi avrà voglia di immergersi per intere giornate all'interno di menu e fasi di testing riuscirà infatti a creare qualcosa di veramente soddisfacente e che vada oltre a semplici spezzoni di gameplay. Superando indenni gli innegabili momenti di frustrazione e qualche idiosincrasia nelle dinamiche, Project Spark offre comunque tutta la soddisfazione che il vedere la propria creatura giocata ed ammirata da amici e colleghi sparsi per il mondo può regalare. A conti fatti rimane quindi solamente da chiedersi quante di queste soddisfazioni riuscirete a togliervi prima che la voglia di tornare dalla parte gamer della barrecata inizia a farsi sentire con prepotenza.